Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Si avvicina la data di pagamento delle pensioni di aprile, subito dopo le festività pasquali, infatti, gli oltre 16 milioni di pensionati italiani riceveranno il consueto sussidio dall'Inps. Nel mese che sta per iniziare però, come fatto notare dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, i pagamenti slitteranno leggermente rispetto alla data inizialmente prevista. Cosa succede? Ecco il calendario di pagamento pensioni di aprile 2024 e il motivo del ritardo nell'erogazione degli indennizi. Per ricevere la pensione di aprile 2024 bisognerà superare la giornata di Pasquetta, arrivando quindi al primo giorno utile dopo il lunedì dell'Angelo. Il tutto vale anche per altri sussidi come l'assegno unico e universale o gli assegni di invalidità. Si ricorda intanto, nell'attesa di ricevere l'assegno pensionistico relativo al prossimo mese, che sul sito inps.it è possibile consultare il cedolino della pensione, ovvero il documento che consente ai beneficiari di verificare l'importo erogato ogni mese dall'Inps e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare.